Buongiorno Nello, come si va? Buongiorno, un'occasione particolare, una tavola imbandita con tutti i fiori, i fiori in tavola, omaggio al Mediterraneo non solo da vedere ma anche da assaggiare. Che cosa ci puoi dire di questi fiori? Come li cuciniamo? Come li facciamo? Come li prepariamo? C'è l'imbarazzo della scelta, l'importante è avere dei fiori freschi, dei fiori belli, dei fiori puliti senza trattamenti di veleni. Partiamo dalla ginestra, una ricetta semplice, a parte la ginestra vi invierà il terrazzo con il suo profumo che è eccezionale, però raccogliete una manciata di fiori di ginestra in padella con dell'olio d'oliva extravergine, un po' di fondo con cipolla nuova, con scalogno, con tutto quello che volete, mantecate per qualche minuto, quando la pasta è pronta unite la pasta, quando è mantecato alla fine mettete un'altra manciata di fiori di ginestra e potete aggiungere qualche pomodorino schiacciato con le mani. Tutto questo è una promessa per il nostro corso UNITRE a piano di Sorrento, tu che lo dirigi tanto bene da tanto tempo. Grazie, troppo buona. Niente, possiamo provare a fare qualcosa di interessante, soprattutto raccogliendo entusiasmo? Questo senza dubbio. Allora ti aspettiamo, facciamo un passaggio su questo che già c'è. Due parole anche sull'antico casale.